Ha bisogno di cura, ma in questo momento la situazione degli ospedali legata all'emergenza coronavirus non offre adeguate garanzie. Per tale ragione si chiede che vengano concessi gli arresti domiciliari. E' questa, in sintesi, la motivazione con la quale l'Avvocato Salvatore Pennica ha chiesto la scarcerazione del Saccense a Cursio di Mino, arrestato per mafia nell'ambito dell'operazione denominata Passpartout, messa a segno nello scorso mese di novembre a Sciacca. Le condizioni di salute di di Mino, sostiene l'Avvocato, necessitano di cure tempestive che, se non garantite, potrebbero far aggravare ulteriormente la sua situazione, ma per il legale non sarebbe opportuno un trasferimento in ospedale vista l'emergenza coronavirus. Per a Cursio di Mino, il boss di Sciacca, rinchiuso nel carcere di Napoli, viene richiesta la possibilità di curarsi a casa e quindi la concessione degli arresti domiciliari. L'operazione Passpartout, come si ricorderà, aveva coinvolto anche il Saccense Antonello Nicosia, pure lui accusato di associazione mafiosa. Anche lui, tramite l'Avvocato Salvatore Pennica, aveva avanzato nei mesi scorsi all'inizio dell'epidemia la richiesta di essere scarcerato, facendo leva sul rischio contagio all'interno del carcere di Voghera, dove era detenuto, istanza che è stata respinta. Grazie.